Qua è la casa? Abbiamo due bambini ricoverati, un maschietto e una femminuccia, entrambi di tre anni. La femminuccia purtroppo ha delle condizioni, è in condizioni estremamente gravi. Cos'ha? Ha avuto un politrauma con un grosso ematoma cerebrale e con una grossa frattura infossata della teca cranica, del cranio. Stanotte è stata operata il svuotamento dell'ematoma e è stata craniectomizzata, cioè si è fatto un piccolo percolò osseo per detentere la pressione cerebrale. In questo momento è una bambina che probabilmente dovrà essere, perché ci sono delle fratture sia dell'omero sia della gamba inferiore sinistra, della gamba, dovrà essere probabilmente operata. Le condizioni sono molto gravi della bimba. L'altra bambina pur avendo avuto lo stesso trauma cranico con una leggera emorragia cerebrale e lo stesso una frattura del cranio, le condizioni sono leggermente più stabili, siamo più ottimisti per quest'ultimo bambino. Gli altri invece? Io ho solo questi due bambini da me. La prognosi è per entrambi riservata. La bimba, ripeto, stiamo programmando appena le condizioni emodinamiche ce lo consentiranno di fare una fissazione dell'omero per evitare dolore, per evitare perdita di sangue. Quanti anni ha questo qui? Entrambi hanno tre anni. Tre anni fra qualche mese, due anni e mezzo. Quanti anni fa? Quanti anni fa? Quanti anni fa? Grazie a tutti. Grazie.